Non mi tirate, non mi tirate, non mi tirate, mi stai facendo male, mi stai facendo male, mi Grossavi, mi stai facendo male. Ma che state facendo? Ma che fa? Ma che fa? Ma sia calmo! Sia calmo! Sia calmo! Sia calmo! Stavo passando per fare cosa? Lei è una persona che passa per strada! È una persona che passa per strada!